La Polizia di Stato ha denunciato un ventenne sorpreso con telecamera e auricolari durante l'esame per il rilascio del titolo professionale della carta di qualificazione del conducente. Durante i controlli avvenuti il 13 dicembre nella motorizzazione civile di Pescara, il personale della Polizia Stradale ha individuato tra i candidati un ventenne residente nella provincia pescarese, sorpreso con indosso un'attrezzatura atta a comunicare con l'esterno, alla fine di ricevere aiuto nelle risposte. In particolare il giovane aveva indosso dei mini auricolari, un maglione in cui era stata abilmente inserita una microtelecamera e all'interno delle scarpe erano nascosti un router e una batteria. La strumentazione sarebbe servita per comunicare con il complice all'esterno dell'edificio. La prova d'esame, che nonostante lo stratagemma è risultata non superata, è stata sospesa ed entrambi sono stati denunciati in stato di libertà, il materiale sottoposto a sequestro.